questo programma è offerto da teuronic stufano facciamo a metà fino al 22 maggio acquista due prodotti diversi di cui uno di almeno 599 euro e il meno caro lo paghi la metà samsung lavatrice classe a 8 chili wifi integrato a 199 euro scegli la tua rata e paghi ad ottobre fino al 22 maggio da euronics stufano facciamo a metà euronics un mondo più avanti scatta il blitz di carabinieri e direzione antimafia scambio elettorale politico mafioso nel mirino le elezioni comunali del 2023 a circola sette gli arresti è morta a soli 21 anni investita è uccisa da un sub a napoli chi la travolta è fuggito per poi consegnarsi un 29enne di scampia grave anche un'altra ragazza investita tragedia benevento dove un tredicenne è morto il giovane accusato un malore dopo una febbre molto alta inutile la corsa in ospedale indagano i carabinieri due furti nella notte in due banche in provincia di napoli a marigliano e santa anastasia i gnoti si sono introdotti negli istituti spaccando le vetrine tre episodi analoghi a salera per anni ha subito le violenze inaudite del compagno fino a che non è riuscita a denunciarlo ritorsioni e percosse anche quando era incinta l'uomo condannato a 5 anni svolta nel caso del rapimento presunto tale della maestra di ballo di lanciano ritrovata a castelvolturno la donna avrebbe confessato di aver inventato tutto nessun sequestro a caserta l'apertura della campagna elettorale di forza italia col ministro dell'università della ricerca anna maria bernini d'agostino competenze ai giovani per trattenerli il sud ne ha bisogno si è tenuta a napoli la prima tappa del campionato italiano moto d'acqua 2024 lo splendido lungomare caracciolo ha fatto da sfondo alle evoluzioni dei migliori piloti tricolori il napoli stasera ad udine per provare a mettere punti in cassaforte la salernitana attende l'atalanta in serie c dalle 21 road to playoff ospite l'attaccante l'orenzo sgarbi dell'avellino ben trovata campania ben ritrovati ai telespettatori di prima tv un terremoto giudiziario si è abbattuto sul comune di cercola come avete ascoltato dai titoli scambio elettorale politico mafioso una compravendita di voti anche per il ballottaggio del 2023 appunto sono sette gli arresti facciamo il punto nel servizio d'apertura alle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di torre del greco in provincia di napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di napoli su richiesta della dda partenopea carico di sette persone sei arresti in carcere uno ai domiciliari gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di scambio elettorale politico mafioso associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale di detenzione porto in luogo pubblico di armi delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare i clan fusco ponticelli e de micco de martino 30 euro a voto per la prima tornata elettorale 20 per il ballottaggio questo il tariffario della compravendita delle preferenze a cercola in provincia di napoli in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2023 secondo quanto emerso nell'ambito delle indagini della dda con i pmr in john woodcock e stefano capuano tra gli arrestati figurano la fia di un boss ergastolano all'epoca dei fatti rappresentante di lista una candidata legata da vincoli di parentela al clan de micco suo fratello consigliere in una municipalità di napoli anche loro padre le elezioni finite al centro delle indagini sono le amministrative del 14 e 15 maggio 2023 quindi del successivo balottaggio del 25 e 26 maggio dello stesso anno ed ora parliamo della tragedia che si è consumata ieri a napoli con la morte di una giovanissima travolta l'alba da un suv prima è fuggito poi si è consegnato ai carabinieri un 29enne di scampia grave anche un'altra ragazza investita a 29 anni il conducente del suv preso a noleggio che ieri alle 6 30 di mattina napoli in via cavalleggeri ha investito e ucciso la 21enne sala romano che stava per sostituire un'amica alla guida dell'auto di sua proprietà il giovane sposato e con due figli dopo il violento impatto si è dileguato ma è stato individuato dai carabinieri grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona i militari sono riusciti a risalire la targa all'auto a noleggio dove era stata prelevata la macchina così sono arrivati fino all'abitazione del noleggiatore il 29enne non era a casa ma ha poi deciso di consegnarsi accompagnato da un avvocato nel commissariato di secondigliano dal quale poi è stato trasferito in una caserma dei carabinieri e lì è sottoposto a interrogatorio l'accusa è ora di omicidio stradale colposo aggravato dall'omissione di soccorso due ore prima che si consumasse la tragedia si è verificato un altro terribile incidente questa volta siamo a fuori grotta in via leopardi rita granato 27 anni residente proprio nella zona stava concludendo la serata facendosi accompagnare insieme alle sue amiche a casa in taxi scesa dal mezzo sotto casa mentre attraversava la strada la giovane è stata investita da una volkswagen condotta da un ragazzo di 24 anni e con a bordo un altro passeggero di 22 l'impatto è stato violentissimo rita è stata sbalzata in avanti di almeno 20 metri a seguito dell'investimento il conducente dell'auto ha proseguito la marcia salvo poi ritornare dopo 30 minuti sul posto dove è stato intercettato dagli agenti della polizia municipale intervenuti per prestare soccorso e per i rilievi le condizioni della ragazza investita sono subito apparse gravi ed è stata trasportata in ambulanza dal 118 presso l'ospedale san paolo dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata ed ora parliamo di furti ai danni di banche il modus operandi è sempre lo stesso spaccano le vetrine e svaliggiano gli istituti è accaduto nelle ultime ore a marigliano e santa anastasia ma simili furti si erano verificati anche in provincia di salerno i carabinieri sono intervenuti per due distinti furti in due istituti bancari in provincia di napoli nella notte il primo è avvenuto a marigliano al corso umberto primo 428 mentre l'altro a santa anastasia via madonna dell'arco 112 in entrambi i casi ignoti si sono introdotti negli istituti bancari spaccando le vetrine i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di castello di cisterna hanno appurato che a marigliano i banditi hanno preso una cassaforte roller cash mentre a santa anastasia hanno tentato di fare la stessa cosa ma non ci sono riusciti danni e eventualmente deneraro rubato in corso di quantificazione indagini in corso da parte delle locali stazioni e dei carabinieri di castello di cisterna ancora furti a raffica la zona orientale di salerno saccheggiata la scorsa notte tre colpi messi a segno nel mirino la banca sella nei pressi del parco arbostella i ladri hanno sfondato la vetrina con la griglia di copertura di un tombino per poi portar via la cassaforte non ancora quantificato il bottino altri due furti ai danni di una tabaccheria e di uno store media world al baglio delle forze dell'ordine che questa mattina hanno effettuato rilievi di rito anche i filmati delle telecamere di video sorveglianza ma il tema furti di laga in tutta la campania questa mattina in prefettura napoli l'incontro con una rappresentanza dei comitati di giuliano che avevano fatto sentire la loro voce rispetto al continuo alla continua andata di furti e andiamo nel sannio perché c'è una triste notizia la morte di un ragazzino di un bimbo di 13 anni dopo una febbre alta ancora sconosciute le cause sul caso hanno avviato le indagini carabinieri morte improvvisa per un tredicenne di benevento che nel primo pomeriggio di ieri è accusato un malore che si è manifestato in seguita ad una febbre molto alta le condizioni del ragazzo sono precipitate all'improvviso e i familiari hanno sollecitato l'intervento dei sanitari del 118 e sul posto sono arrivate sia l'ambulanza infermieristica che la rianimativa della croce rossa ma i soccorsi li sono rivelati inutili tuttavia all'arrivo del pronto soccorso del rummo i medici decisi a non arrendersi hanno continuato le pratiche rianimative senza successo perché il tredicenne era già in arresto cardiaco lo scompiglio in pronto soccorso è stato massimo insieme alla ferma volontà dell'equip di non mollare e di protrarre le manovre rianimative per oltre due ore ma il cuore del ragazzo non ha mai dato segni di ripresa con molta probabilità il decesso è stato causato da un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo ma bisognerà comunque accertarne le cause che potrebbero essere attribuite a diverse patologie che vanno dalla miocardite alla meningite fulminante attualmente tutto da definire ma fino alle 20 di ieri sera i familiari del ragazzino non avevano inoltrato nessuna denuncia alla compagnia dei carabinieri di benevento in assenza dell'interessamento le forze dell'ordine da parte dei familiari sono stati gli stessi medici del pronto soccorso a richiedere l'esame autoptico sulla salma attualmente trasferita all'obitorio del rummo che sarà predisposto nei prossimi giorni infatti una morte improvvisa e fulminante che coglie un ragazzino di appena 13 anni necessita di approfondimenti necessari a individuarne il motivo ed eventuali patologie pregresse non individuate a pagani per anni ha subito le violenze del compagno fino a che non è riuscita a trovare il coraggio per denunciarlo ritossioni e percorse anche quando era incinta l'uomo è stato condannato a cinque anni violenze inaudite minacce continue e punizioni inumane le ha subite per anni una 35enne di pagani in provincia di salerno picchiata e maltrattata dal compagno di 36 anni anche quando era incinta aggressioni con calci e pugni quando era in attesa del figlio che hanno procurato alla donna un trauma cranico ed ematomi sul corpo ma questo è soltanto uno dei tanti episodi raccontati dalla vittima ai carabinieri che poi hanno portato alla condanna cinque anni di reclusione per l'ex compagno le ritorsioni brutali scattavano anche se la donna usciva senza avvisarlo e in un'occasione dopo averla inseguita in strada le ha bruciato i capelli con un accendino in un'altra occasione l'uomo aveva tentato di soffocarla con il cavo del cellulare le violenze erano praticamente all'ordine del giorno accompagnate sempre da ingiurie e minacce quando l'uomo seppe che la compagna era incinta immaginando che il bambino fosse di un altro l'aveva stretto una cintura al collo minacciando di ucciderla la 35enne ha raccontato anni di mortificazioni continue anche economiche spesso infatti veniva lasciata senza cibo per una settimana altre volte le venivano dati 5 euro per fare la spesa per sette giorni e se provava a chiedere soldi anche solo per necessità del bambino veniva picchiata quando ha trovato la forza per raccontare ai carabinieri quanto le accadeva soprattutto per il timore che potessero esserci rischi per il figlio la 35enne si è liberata da un incubo l'ex compagno oltre ai cinque anni di reclusione è stato condannato ad una provisionale di 10.000 euro ed ora parliamo di un altro caso che ha tenuto banco nelle ultime ore quello del rapimento ho presunto tale della maestra di ballo di lanciano rinvenuta a castel volturno la donna ha confessato di aver inventato tutto un finto rapimento per mascherare un tentativo di suicidio lo ha confessato milena santirocco la 54enne di lanciano in provincia di chieti maestra di ballo scomparsa dal scorso 28 aprile ritrovata sabato sera a castel volturno in provincia di caserta stando a quanto riporta il quotidiano il messaggero rispetto all'interrogatorio che ha coinvolto la donna proprio nelle scorse ore non ci sarebbe stato nessun sequestro di persona ho inventato tutto volevo uccidermi ero disperata e volevo togliermi la vita avrebbe confessato santirocco che nelle ore precedenti invece aveva detto di essere stata rapita da due persone incappucciate che avrebbero anche tentato di annegarla in uno stagno dell'oasi di variconi milena era stata trasferita ieri al commissariato di lanciano che si occupa delle indagini dal momento della sua scomparsa la procura aveva già aperto un fascicolo per sequestro di persona ma le dichiarazioni della donna a questo punto hanno smontato altre ipotesi numerosi in questi giorni erano stati gli appelli dei suoi familiari il profilo facebook della donna risultava cancellato e il telefono spento mentre la sua auto era stata ritrovata a torino di sangro sul litorale abruzzese con una gomma a terra la pagina politica caserta sabato l'apertura della campagna elettorale di forza italia per le europee con il primo appuntamento in campania alla presenza del ministro dell'università e della ricerca anna maria bernini presenti tutti i candidati del collegio sud angelo antonio d'agostino dice competenze ai giovani per trattenerli il sud ne ha bisogno per forza italia campagna elettorale al via in campagna da caserta con i candidati del collegio sud è il ministro dell'università e della ricerca a tenere a battesimo una folta platea più forza al sud in italia e in europa il messaggio di chi col vento in poppa dei sondaggi e delle proiezioni dei seggi assegnati punta a rinforzare le file dei popolari europei ambendo ad un risultato elettorale in doppia cifra l'europa che non deve sacrificare le produzioni sull'altare dell'ecologia ma trovare un punto di equilibrio l'europa che può finanziare giovani e formazione per l'ingresso nel mercato del lavoro il ministro ringrazia i candidati gli interventi del coordinatore regionale martuscello del presidente della provincia maiocca del coordinatore provinciale casertano guida precedono quello dell'esponente di governo questi territori straordinari possano crescere ancora di più formazione giovani e lavoro sono venuti fuori come temi dai candidati ma come si declinano in europa senza poi politica anche del governo che tengono da collante si declinano molto concretamente portando delle infrastrutture di formazione sui territori i soldi dell'europa ci sono molto utili li stiamo già spendendo l'importante è avere le persone giuste che abbiano le competenze giuste sappiano come chiedere sappiano come portare qui e sappiano come spendere nel suo intervento angelo antonio d'agostino ha testimoniato l'esperienza che tocca con mano ogni giorno un'intera generazione di giovani emigrata quelli che restano vanno formati competenze specifiche consentono di trattenere i giovani al sud e il sud ne ha bisogno sono un imprenditore occupo mi occupo di infrastrutture di grandi opere infrastrutture in tutta italia abbiamo vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza anche in europa non solo sono il presidente di un its e qui mi appello al ministro dove cerchiamo tra i giovani di avvicinare molti giovani al lavoro che credo che sia una delle delle tematiche molto importante che ci attirano anche sul rischio scarsa affluenza e disincanto dalle elezioni europee occorre impegnarsi per i giovani e non solo ha precisato d'agostino noi dobbiamo fare un grosso lavoro detto anche gli altri colleghi oltre che tutti gli elettori più sensibili dobbiamo fare un grande lavoro a mandare le persone a votare a sollecitare le persone a votare soprattutto la fascia giovane che è un po' disinteressata a queste europee però devono capire che l'elezione europeo credo che siano una degli appuntamenti politici molto più importanti di quando loro possono immaginare nel tg sport di oggi le anticipazioni apertura che sarà dedicata alla napoli ad udine scenderà in campo alle 20 e 45 per provare a mettere punti in cassaforte la salernitana se la vedrà alle 18 in casa contro un atalanta che cerca la qualificazione in champions e poi la serie c con l'avellino che terrà due teste in settimana prima a ranghi misti domani contro la primavera poi sabato dalle 21 road to playoff ospite della nostra trasmissione l'attaccante dell'avellino lorenzo sgarbi ora ci separiamo per una breve pausa torniamo con le altre notizie rieccoci spazio alla cultura in questa seconda parte di telegiornale le prime domeniche del mese con ingressi gratuiti ai musei e in campania ancora una volta è stato un trionfo della cultura l'iniziativa del ministero della cultura della prima domenica del mese con accesso gratuito ai musei continua a restituire numeri da capogiro in termini di affluenza ai maggiori siti museali della regione campania oltre 85 mila ingressi nelle strutture museali nei siti archeologici e monumenti del territorio regionale porte aperte gratuitamente anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statale a napoli come castel santelmo la certosa il museo di san martino il palazzo reale di napoli subito dietro castel santelmo che il risultato il più visitato nella giornata di ieri palazzo reale con 7698 accessi e ancora domenica al museo continua a registrare successi per le aree archeologiche di pompei ercolano e dei campi flegrei senza dimenticare la regia di caserta letteralmente assalita dai visitatori ieri è stata infatti sfiorata la cifra di 15 mila visitatori anche questa prima domenica di maggio dopo l'apertura del 25 aprile conferma che i visitatori apprezzano sempre di più l'opportunità di godere gratuitamente della bellezza e questo il commento a caldo del ministro della cultura gennaro san giuliano che in una nota ha continuato i musei e tutti i nostri luoghi di cultura ci ricordano da dove veniamo e chi siamo è solo una straordinaria occasione di rappresentazione di sviluppo della nazione a proposito di cultura e di identità facciamo un passo indietro andiamo a sabato ore 18 e 38 si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di san gennaro di maggio alle 18 e 38 di sabato 4 maggio è arrivato il tanto atteso annuncio il miracolo di san gennaro si è ripetuto l'arcivescovo don mimmo battaglia ha baciato l'ampolla con il sangue sciolto del santo patrono di napoli e l'ha mostrata ai fedeli presenti presso la basilica di santa chiara tra gli applausi della folla don mimmo battaglia dopo essersi recato nella cappella del tesoro accolto dall'abbate prelato monsignor vincenzo de gregorio dalla deputazione presieduta dal sindaco di napoli gaetano manfredi aveva aperto la cassaforte che custodisce le reliquie del santo con il sangue che non si era ancora sciolto poi è partita la tradizionale solenne processione del busso di san gennaro delle ampolle contenenti il sangue del martire dal duomo alla basilica di santa chiara portati in processione anche i simulacri di altri santi compatroni e la città di napoli il corteo si è snodato per via duomo proseguendo lungo via san viaggio dei librai piazza san domenico maggiore via benedetto croce fino alla basilica di santa chiara lungo il percorso i parroci hanno onorato il santo patrono con l'offerta dell'incenso e il suono delle campane il corteo processionale è stato accompagnato alla fanfara dei carabinieri l'arrivo presso la basilica di santa chiara è avvenuto intorno alle 18 e 30 per l'inizio della celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo nel corso della quale sono state elevate preghiere per la prodigiosa liquefazione del sangue del santo un altro appuntamento atteso a napoli in questi giorni era l'avvio del campionato italiano di moto d'acqua queste le immagini e la sintesi dello spettacolo andato in scena si è svolta a napoli la prima tappa del campionato italiano moto d'acqua 2024 in uno dei luoghi simbolo della città partenopea il lungomare caracciolo che ha fatto da sfondo alle evoluzioni dei migliori piloti italiani che hanno dato spettacolo sotto gli occhi dei numerosi appassionati e passanti nello specchio d'acqua antistante l'arenile della rotonda diaz l'appuntamento in programma fino al 5 maggio è stato organizzato dalla sd jet ski family racing team di salvatore babo sotto legge della federazione italiana moto nautica coni e con il patrocinio del comune di napoli ed è stata all'altezza delle attese grazie alla partecipazione di oltre 120 atleti dopo la tappa di napoli la seconda tappa del campionato italiano moto d'acqua si terrà che oggi è il 18 e 19 maggio a seguire la terza d'ancona l'otto il 9 giugno la quarta santa cesarea il 7 8 settembre la quinta e ultima tappa a fiumicino il 21 e 22 settembre prossimi ed era questo l'ultimo servizio grazie per la cortesi attenzione grazie in regia silvana piccariello buon proseguimento di giornata con i programmi di prima tv grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti